Un tracciato di 200 metri lineari, il massimo sviluppo previsto dal CONI per questo genere di impianti sportivi. È la pista di pattinaggio di Senigalli, ormai completata definitivamente e consegnata nei giorni scorsi alla città. Ora questo intervento che ha caratterizzato un po' l'azione di questa amministrazione, che prima ci ha visto intervenire con la piscina, ora con questo grande impianto di carattere internazionale che ovviamente ci mette nelle condizioni di mettere in campo un'operazione sul piano dell'offerta turistica sportiva di caratura internazionale. La cittadella dello sport di Senigallia si arricchisce dunque di un nuovo importante tassello, la pista di pattinaggio che va così ad affiancarsi allo stadio di atletica, ai campi da tennis, da calcio e alla nuova piscina coperta già realizzati nella stessa zona. Finalmente abbiamo realizzato questo sogno che aspettavamo da un po' di tempo, che è quello di completare la cittadella dello sport con un nuovo impianto legato al pattinaggio. Questa disciplina tanto seguita dai nostri cittadini senigalliesi e soprattutto che offre tante opportunità nuove anche alla città del mare, la città turistica. L'impianto è una pista ad anello con curve sopraelevate a sezione rettilinea, una larghezza utile di 6 metri lineari ed è dotata di barriere protettive lungo tutto il perimetro esterno. Al centro dell'anello l'area rettangolare di metri lineari 50x25 è destinata a pista per pattinaggio artistico. La pista e il parterre interno sono invece pavimentati secondo le più moderne esigenze. L'illuminazione è composta da 4 torri faro con 24 proiettori idonei per manifestazioni sportive notturne e con caratteristiche tecniche rispondenti alle esigenze di riprese televisive notturne. Sono state un po' tutte le scelte che abbiamo fatto noi di rendere fruibile gli impianti anche nelle ore notturne. Questo si inserisce dentro un contesto particolare perché siamo molto vicini al mare, tra l'altro collegati con le piste ciclabili, con sottopassi che portano direttamente al mare e quindi avere la possibilità di utilizzare l'impianto anche nelle ore notturne per il periodo estivo per una città come la nostra è un elemento di grande qualità. La pista di pattinaggio è stata realizzata come opera di urbanizzazione secondaria dal soggetto attuatore del piano di lottizzazione zona BR3 Parco delle Saline. Si tratta di un impianto costruito secondo i parametri tecnici del CONI ed idoneo ad ospitare competizioni ufficiali anche di livello internazionale. Un impianto che è chiamato ormai pattinodromo internazionale perché ha avuto anche l'omologazione del CONI, un impianto dove ci saranno i più grandi campioni e soprattutto ci saranno tantissime iniziative internazionali che offriranno alla città tante opportunità. Il pattinaggio veloce, grazie soprattutto a figura del campione locale Mauro Guenci, è una disciplina sportiva molto praticata a Senigallia. Pattinaggio che tra l'altro il prossimo 10 maggio troverà a Senigallia un grande palcoscenico. Per quella data sono infatti in programma i campionati nazionali UISP della disciplina. A risottolineare la vocazione di questo impianto ospiteremo i campionati nazionali della UISP di pattinaggio e una delle possibilità che questo impianto può avere, quella del pattinaggio, perché poi possiamo ospitare l'hoquei, il pattinaggio artistico e quant'altro, troverà il tassello e quindi anche la possibilità di esprimersi in quella giornata, che sarà la giornata anche di inaugurazione di festa per questo importante impianto. Insomma, una struttura di grande qualità, costruita secondo le più moderne tecnologie, ed in grado di soddisfare le richieste di tutti gli appassionati e dei ragazzi che frequentano la scuola di patinaggio. Con la pista di patinaggio veloce, il cui costo complessivo è di circa 586 mila euro, si arricchisce insomma il mosaico di strutture sportive della città. Le attrezzature di cui rispone Senigallia sono ormai di una qualità e varietà tale da costituire una notevole attrattiva in un segmento turistico così importante come quello legato allo sport. Vuol dire che da oggi potremo organizzare, potremo far vivere momenti importanti di crescita, soprattutto i nostri giovani che sono appassionati di patinaggio. Intanto magari i bambini e famiglie possono venire qua, recarsi qua per patinare. Assolutamente, la pista di patinaggio sarà aperta tutti i giorni con la presenza delle società sportive che proporranno questa disciplina sportiva tanto così interessante, tanto bella e tanto in crescita tra l'altro perché è sempre più seguito il patinaggio. Nei giorni scorsi alla pista è stata concessa anche l'omologazione coni. Gli impianti sportivi di Senigallia continuano dunque a crescere e da riguardo per domani è prevista l'inaugurazione ufficiale a Marzocca del manto in erba artificiale presso il locale campo di calcio. Abbiamo fatto questa scelta in questi anni di migliorare, di riqualificare e di realizzare impianti. La pista di patinaggio è una nuova realizzazione, il campo in sintetico per il calcio 5 e il calcio 8 di Marzocca significa invece una riqualificazione di un impianto che era vetusto, che per mille ragioni ormai non riusciva più a dare la risposta al nostro comune e a quella parte di territorio. Penso che anche quello sia un grande e bel intervento e anche ben inserito nel contesto.